Allora cari telespettatori, che dirvi, il finger food di Stefano Dadi, immagino si sia visto dalla faccia con cui me lo sono gustato, era veramente delizioso, quindi facciamo ancora un grande ringraziamento a Stefano Dadi, ma, 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 oggi è martedì e io mi alzo, mi alzo perché imito il mio collega e io mi avvicino con passo per fatto, buonasera, e do il benvenuto a Fabio Camillacci, ciao Fabio, mi avvicino per sentire là. Vuoi fare come fa Francesco? Salutiamoci, starà sicuramente guardando. Ciao Francesco, sicuramente. Da casa hai fatto questa mossa tipica sua, vuole prendere l'energia, no? Prendo l'energia ma soprattutto prendo un po' di sapere di Fabio Camillacci perché Fabio Camillacci è un grandissimo professionista, lavora con noi in televisione, in radio, veramente facendo dei programmi che comunque, insomma, parlano da soli, fanno veramente ascolti da record. E peraltro mi piace sottolineare una cosa, come cambiano le cose nella vita, Francesca fu allieva, per così dire, no? Quando venne qui a Radio Cusano Campus a fare l'alternanza scuola lavoro 2016, una vita fa. E tra le trasmissioni che si potevano scegliere per fare l'alternanza scuola lavoro c'era anche la storia oscura di Radio Cusano Campus. E io sono capitata con il grandissimo Fabio Camillacci. Peraltro caso Moro parlammo, mi pare, forse. No, parlammo di Pearl Harbor. Ah, di Pearl Harbor addirittura, quindi sarà stato il dicembre di quell'anno, no? Per l'albero è il 7 dicembre del 41, quindi ecco, adesso invece è lei che conduce e io sono ospite. Ma Fabio, con tanto di capo, con spasso di cenere davanti a te. È una grande crescita per Francesca Romana. Allora Fabio, oggi è il giorno di San Valentino, 14 febbraio e andiamo, vi portiamo sul nostro quotidiano online, tag 24 by Unicusano, perché andiamo a vedere che cosa l'accadde oggi. Mi dispiace rovinare questa meravigliosa festa parlando di un fatto di crimine, ma come dice Francesco Acchiardi, sono l'uomo del crimine. L'uomo del crimine. E quindi non poteva che esserci. Questo è Crimini di San Valentino. È Crimini di San Valentino. Allora. San Valentino di sangue, peraltro. San Valentino di sangue. Cioè, è stato anche un bellissimo film un po' di anni fa, che fu trasmesso in 3D, particolarmente cruento come immagini. Invece oggi, su Tag 24, quello che è l'accadde oggi, un sueto che ho il piacere di curare, riguarda proprio questo fatto di cronaca, la strage di San Valentino. Vedete appunto il riferimento a quel fatto. Avvenuta 94 anni fa. 94 anni fa. Eravamo in pieno proibizionismo. Eccolo qui, vedete il volto di Al Capone a proposito di quell'evento. Perché è stato uno dei più cruenti regolamenti di conti nella storia della malavita statunitense. Cosa avvenne il 14 febbraio di 94 anni fa, questa strage di San Valentino. Praticamente, gli uomini di Al Capone sterminarono la banda di George Bugs Moren. Perché erano le bande che si contendevano il controllo di Chicago a proposito del traffico di alcolici, visto che c'era in quel periodo il proibizionismo negli Stati Uniti. Quindi Al Capone fu molto furbo, perché lui aveva anche l'alibi di ferro, mandò i suoi uomini a compiere questa strage. Lui era impegnato con un giudice federale per una testimonianza. Quindi era proprio da tutta altra parte. Però mandò Sam Gincana, che era il suo fedelissimo, si mascherarono, si travestirono da poliziotti, e fecero irruzione in questo garage dove c'erano gli uomini della banda rivale, aprirono il fuoco e furono uccisi sette membri della banda di George Bugs Moren, che si salvò perché c'era uno che somigliava molto a lui, pensavano di aver ucciso anche il capo, invece lui riuscì a salvarsi. Peraltro fu una potenza di fuoco notevole, esplosa contro gli esponenti della banda di Moren. in almeno 50 proiettili per ciascuno dei componenti, quindi le sette vittime furono raggiunte ognuna di loro da almeno 50 proiettili. Quando poi arrivarono i veri poliziotti sul posto, uno di loro era ancora vivo, cercarono di interrogarlo, e questo fa anche sorridere nel dramma, gli chiesero chi ti ha sparato, e lui con 50 proiettili addosso mentre stava per morire, disse... mi ha sparato, no, nessuno mi ha sparato, per dire comunque l'omertà fino in fondo, e poi morì. Però da un certo punto di vista andando a coprire il proprio assassino. Sì, però ovviamente non si erano resi conto di chi... Certo. ...mi avesse sparato. Ovviamente il fatto di mascherarsi da poliziotti a un certo punto fece pensare che erano stati eliminati dalla polizia stessa che voleva eliminare personaggi scomodi che avrebbero potuto dire e parlare di rapporti in qualche modo di collaborazione tra... ci sono sempre stati negli Stati Uniti, soprattutto a quei tempi, corruzione, no? era particolarmente alto il livello di corruzione e quindi molti hanno pensato... i poliziotti hanno ucciso i membri della banda di Bugs Moren per farli tacere. E all'inizio, quindi Al Capone, non solo non fu toccato dalle indagini, perché non era a Chicago quel giorno, ma addirittura si pensò che la strage fosse stata fatta proprio da poliziotti veri. Era stata... Solo anni dopo. Era quasi una perfetta copertura. Una perfetta copertura, poi qualche anno dopo è stato svelato il tutto. Ecco, questa è insomma un fatto storico, la famosa strage di San Valentino. E l'abbiamo voluta ricordare. E l'abbiamo voluta ricordare. Con l'HCAD oggi, visto che appunto quando arrivo io si parla, ahimè, di crimine e di criminologia. Noi ricordiamo l'HCAD oggi non è come tutti quelli che vengono fatti da altre parti, non l'elenco dei fatti del giorno. Il nostro è un fatto del giorno che scegliamo, selezioniamo e poi analizziamo e approfondiamo. Ovviamente ci sono delle ricorrenze che sono obbligate e ci sono però delle giornate in cui cerchiamo sempre di evidenziare dei fatti storici meno conosciuti, meno famosi. Precediamo Fabio invece parlando sempre per la serie crimini di cuore, crimini legati comunque alla festa degli innamorati. in questo caso visto che oggi è San Valentino, quindi crimini di cuore. C'è stato, se non sbaglio Fabio, giusto, un altro fatto. Esatto, esatto, molto grave. Sì, a proposito di San Valentino, sì, potremmo appunto dire, all'epoca non si usava molto, era il 1988 quando avvenne questo fatto di sangue, 14 febbraio dell'88, ma fu comunque un femminicidio a San Valentino e il protagonista lo vediamo inquadrato. Il grandissimo pugile Carlos Monzon, che è stato campione del mondo dei pesi medi, sconfisse anche il nostro Nino Benvenuti in un famoso match. Cosa avvenne nell'88? Lui praticamente uccise la moglie. All'inizio cercò di dire che non era stato lui, perché fu un po' particolare il fatto, nel senso che lui cadde abbracciato a sua moglie dal balcone, precipitarono entrambi, lei morì, lui si salvò, e poi quando fu interrogato disse che aveva cercato di salvarla, perché lei voleva suicidarsi, voleva buttarsi, e lui ha tentato di trattenerla, però sono precipitate insieme. In realtà poi le indagini hanno portato a testimoniari che... Esatto, che lui aveva tentato di strangolarla, l'aveva già colpita, era svenuta, quindi quando sono precipitati di fatto lei era svenuta, non era cosciente di quello che poi era avvenuto, quindi è stato accusato poi di omicidio e poi Monzon è morto nel 1995. È stato un grandissimo pugile, quindi un fatto di cronaca legato a un grande personaggio dello sport, un po' come O.J. Simpson, per citarne un altro coinvolto in fatti di cronaca. O Pistorius. Esattamente, ricordiamo anche Pistorius, il quale uccise la sua compagna. Fabio, comunque questa data del 14 febbraio magari può andare a influire su quelli che sono magari anche dei crimini all'interno della storia? Ci sono stati, e noi abbiamo citato questi, perché è chiaro la strage di San Valentino è il fatto più famoso, l'episodio di Monzon è un altro, però comunque ci sono stati altri crimini legati a questa giornata di festa per gli innamorati, ma che purtroppo poi nella storia ha riservato anche queste cose, anche queste storie e soprattutto purtroppo è un'emergenza del giorno, del periodo storico che stiamo vivendo, perché è stato coniato questo termine femminicidio che è anche brutto, però purtroppo assistiamo a una vera e propria scaletta. Questa conseguenza purtroppo della violenza sulle donne, che ormai è sempre più comune. L'anno scorso, se non ricordo male, è stato quasi un record di femminicidi e il 2023 è iniziato ancora sotto questo trend, l'insegna di questo trend, purtroppo sì, purtroppo rispetto a quanto avveniva, purtroppo cose del genere avvenivano anche in passato, adesso sono quasi all'ordine del giorno. La cosa brutta è che forse arriveremo al giorno in cui non faranno più notizia come i suicidi, un tempo, una volta la notizia di un suicidio veniva data a livello di informazione come cronaca, poi è arrivato un momento in cui i miei maestri di giornalismo mi dicevano che il suicidio era una non notizia, perché ce ne erano talmente tanti. Non si poteva riportare ogni suicidio, può far notizia all'omicidio-suicidio, purtroppo non vorrei che anche per le femminicidi... Ma soprattutto sentiamo sempre più testimonianze di donne giovani che subiscono violenza fisica e anche psicologica. Quando è stato? Il mese scorso, se non sbaglio, è stata uccisa una ragazza qui a Roma? Sì, esattamente. E purtroppo poi non sono solo episodi che finiscono così nel dramma, ma ce ne sono tanti altri nascosti. E ne abbiamo parlato spesso la domenica crimine e criminologia, soprattutto nello spazio dedicato alla rubrica La chiave di volta, con le nostre compagne di viaggio, l'avvocato Elisabetta Aldrovandi e la psicologa e criminologa, la dottoressa Antonella Elena Rossi, abbiamo sempre cercato di dire che la chiave di volta è la prevenzione, rivolti alle donne, dire sempre denunciate al minimo segnale. E l'appello anche, forse dell'ordine, hanno un po' le mani legate in tal senso, nel senso che possono intervenire sì, ma non se la donna denuncia stalking o altro. All'inizio la legge è stata modificata nel tempo, sono stati fatti dei passi avanti, ma ancora bisognerebbe fare molto di più, proprio per prevenire, per evitare di arrivare. E diciamo sempre a tutte le donne che ci seguono quando parliamo di queste cose, non andate mai a quello che è l'ultimo appuntamento. Perché potrebbe essere veramente l'ultimo, ma in un altro senso. Esatto, perché magari la persona, l'uomo che invita, vediamoci, per l'ultima volta, chiariamo, proviamo a chiarire, poi purtroppo può sfociare in questo dramma, come il dramma a cui facevi riferimento tu prima, quello che è avvenuto dopo una violenta lite nel ristorante, proseguita fuori e poi lui ha preso la pistola e ha ucciso la sua fidanzata. Per l'altro c'era anche un'enorme differenza di italia. Lei aveva 60 anni, lei aveva 30 anni. Lei aveva 30 anni, lui era andato all'appuntamento con la pistola, aveva una sorta di collezione di armi a casa, quindi aveva premeditato il tutto. Perché se vai all'appuntamento con la tua donna che sta diventando, o è diventata la tua ex, e vai con la pistola, evidentemente avevi premeditato questo. E quindi non andate agli ultimi appuntamenti. Allora Fabio, hai nominato Crimini e Criminologia, giusto? Perché questa domenica ci sarà un appuntamento molto speciale di Crimini e Criminologia. Sì, molto speciale, peraltro ne approfitto anche perché siamo quasi alle 18, ovviamente continuate a seguire pomeriggio con noi, perché dopo ci sarà ciclone aspri. Però agli appassionati di crimine possiamo segnalare quello che è l'appuntamento con Filo Giallo, su Cusano News 7, che è il 234 del Digitale Terrestre, se così ricordiamo anche l'altro nostro canale, con Gabriele Rau ci sarà già Pietro Orlandi, che poi sarà ospite domenica a Crimini e Criminologia, una puntata veramente speciale, ci raggiungerà in studio insieme all'avvocato Laura Sgro, che è illegale della famiglia Orlandi. E con lei poi parleremo non solo di Emanuele Orlandi, ma anche di un fatto di sangue che è avvenuto un po' di anni fa, negli anni 90, in Vaticano, una strage tra guardie svizzere, un fatto di sangue sul quale la stessa avvocato Sgro ha anche scritto un libro. Intanto vediamo immagini che riguardano proprio Pietro Orlandi, uno dei tanti sit-in. A proposito dei ricordi della sorella, e qui verità e giustizia per Emanuele Orlandi, ma lui poi quando fa questi sit-in, un flash mob, manifestazioni, fa sempre appello e cerca sempre di ricordare tutti gli scomparsi, perché noi parliamo di Emanuele Orlandi. Ricordiamo anche Mirella Gregori, comunque legata al caso Orlandi, ma ci sono tantissime persone. Tanti scomparsi, poi ovviamente ci sono scomparsi che fanno notizia, scomparsi che non fanno notizia. Soprattutto per il contesto all'interno del quale sono scomparse determinate persone. Soprattutto, l'ho detto sempre, anche qui, quando Francesco mi avete chiesto perché fa così notizia il caso Emanuele Orlandi, ho sempre detto perché è una cittadina vaticana. E la prima cittadina vaticana è anche l'ultima ad essere scomparsa. Che appunto poi si è trovata al centro, è stata posta al centro di un vero e proprio intreccio, diciamo così, che ha riguardato un po' tutto, perché intorno a Emanuele Orlandi, su Emanuele Orlandi si è romanzato, si è scritto e detto di tutto di più. Sono roteate varie teorie, la mafia capitolina. Appunto, dalla banda della Magliana alla mafia siciliana, che è intrecciata con la banda della Magliana, l'OIOR, la banca vaticana, Monsignor Marcinkus, nel caso il Banco Ambrosiano, Calvi e poi addirittura piste estere, l'attentato al Papa, la pista bulgara, tante situazioni che poi non hanno aiutato, ma forse hanno soltanto aiutato a depistare le indagini. Ne parleremo perché abbiamo parlato proprio qua, un po' di tempo fa, della notizia, della riapertura delle indagini da parte della magistratura vaticana. La riapertura di queste indagini è avvenuta all'inizio di questo 2023, giusto Fabio? Esattamente, dietro l'impulso di Papa Francesco, che l'anno scorso aveva scritto una lettera proprio alla famiglia Orlandi all'avvocato Laura Sgro, che ne parlò proprio in una puntata a giugno scorso di crimini e criminologia, peraltro è la puntata che ha fatto fino ad oggi più visualizzazioni di tutte, credo che sia 65 sul nostro canale YouTube, che vi ricordiamo di seguire e quindi di andare a vedere la puntata di crimini e criminologia. Quella sulla Orlandi, la potete trovare semplicemente facendo la ricerca sui più popolari, perché è quella che ha fatto più visualizzazioni, sta intorno alle 65 mila, però poi il canale YouTube serve un po' per tutte le trasmissioni, no? Vi siete persi questa puntata di pomeriggio con noi, o uno spazio di pomeriggio con noi, lo ritrovate e la recuperate andando sul canale YouTube. Però Fabio, il caso di Emanuele Orlandi fa molto discutere e fa molto appassionare anche le persone comuni, che sono completamente esterne e strane, magari anche dal punto di vista i giovani, i giovani che comunque magari hanno conosciuto questo caso giudiziario da poco, anche qualche mese fa con una serie TV, io quello che noto è che tutti vengono colpiti, tutti dicono la propria e tutti discutono su questo caso. La testimonianza è proprio in questo, perché anche tante altre puntate su Emanuele Orlandi che abbiamo fatto spopolano su YouTube, perché poi naturalmente chi naviga nella rete e magari va a vedere la puntata su YouTube lascia il proprio commento, no? Allora, se si parla ad esempio della strage di Capaci, di Via D'Amelio, del caso Moro, non c'è una grande partecipazione a livello di dibattito, così come invece si riscontra se si parla di Via Poma, di Emanuele Orlandi, di Bossetti, quindi caso Iara, e su Emanuele Orlandi ci sono circa 300 commenti di persone, c'è chi lascia semplicemente un commento di solidarietà alla famiglia, Pietro, o chi dice per me è stata rapita da, per me è stata uccisa da, quindi la gente poi è molto partecipe, il prossimo 22 giugno saranno 40 anni, esattamente, perché era il 22 giugno del 1983, quindi questo 2023 è anche significativo come anniversario, saranno 40 anni, il Vaticano ha promesso, ha detto che appunto si riapriranno le indagini, ma recentemente, e poi ne parleremo domenica, l'avvocato Laura Sgoro ha detto ancora, non siamo stati contattati dal Vaticano, ancora non abbiamo saputo niente, non ci hanno fatto sapere nulla. Quindi diciamo che il Vaticano non si sta muovendo effettivamente, ecco vediamo qui l'immagine di Laura Sgoro. Oppure si sta muovendo il segreto, nel senso che si sta muovendo ma non ha ancora fatto sapere nulla alla famiglia, all'avvocato stesso Laura Sgoro, però c'è da dire una cosa, lo stesso avvenne anche per le tombe al cimitero teutonico, la tomba dell'angelo, quando arrivarono queste lettere alcune anonime, altre firmate, andate a vedere dove c'è lei appunto, questa è intanto l'annunziatura apostolica, qui furono trovate delle ossa sotto il pavimento e lì pure si disse che potevano essere di Emanuele Orlandi, poi le analisi, gli accertamenti hanno portato a concludere che sono ossa addirittura che risalgono a secoli fa e invece per quanto riguarda l'altra storia del cimitero, sembra quasi che si voglia dare un contentino alla famiglia, come dire noi non ostruiamo la strada che può aspettare la verità, abbiamo aperto le tombe e non c'è nulla, anche lì però un po' di mistero rimane, erano vuote, invece c'erano neanche le principesse che avrebbero dovuto essere lì, quindi c'era questa stanza, questo ossario così strano, ecco quindi c'è questa sensazione, come a dire parliamone, poi molto ha avuto un ruolo importante, ha svolto un ruolo importante la serie di Netflix Vatican Girls, Vatican Girls che ha riaperto, purtroppo molte persone, io ho fatto una battuta un tempo fa, ha scoperto che esiste il caso Orlandi guardando la serie di Netflix, perché lui dopo aver visto la serie disse, indagate, riaprite le indagini, ma insomma non c'era bisogno della serie, no? Assolutamente, non c'era bisogno, però diciamo che magari ha dato un aiuto a far rialzare comunque la situazione, perché comunque adesso sono state riaperte le indagini, adesso e non prima. Però ripeto, restiamo sempre in questo limbo strano della serie, vi facciamo questo, oppure apriamo le tombe, oppure riapriamo le indagini, però poi di concreto c'è poco e vedremo. Anche perché Fabio, una cosa che mi ha molto colpito è che tutte le persone che sono intervenute all'interno di quella serie televisiva, ovviamente testimonianza del caso e della storia di Emanuele Orlandi, tutti sostenevano che la colpa fosse da ricercare all'interno appunto del Vaticano. Beh, è chiaro che diciamo che il caso ruota tutto attorno al Vaticano, quindi su questo non c'è dubbio. Che poi possono aver contribuito, diciamo che poi il braccio per farla sparire o altro, sia stato Renatino De Pedis della Magliana o altro, magari è fuori dal Vaticano. però il fulcro è chiaro che è tutto da lì. Ma nel caso in cui si arrivasse a testimoniare, proprio per iscritto, con testimonianze, che è stata veramente colpa del Vaticano, questo sarebbe un'ulteriore e fortissima botta per l'istituzione. E questo diciamo ne resta un po' il punto centrale, ne parlammo anche in quella puntata con l'Avvocato Laura Sgro, dicendo ci sono ancora tanti cardinali molto anziani, lei disse tante volte le persone che sanno dei segreti quando raggiungono una certa età magari li rivelano perché sanno che stanno per morire e lei fece quasi un appello a alcuni nomi di cardinali che potrebbero sapere e che invece fanno finta addirittura di non conoscere nulla dell'intero caso. Però è chiaro che la verità è scomoda per chi è ancora in vita. E' più facile comunque nascondere e mentire a una famiglia piuttosto che, penso dal loro punto di vista, che condannare giustamente qualora la verità fosse loro. E aprire poi appunto una catena vera e propria che andrebbe a travolgere diciamo tante parti importanti. Resta il fatto di quella frase di Papa Francesco che a Pietro Orlandi disse Ormai Emanuele è in cielo. E poi però dopo aver detto Emanuele sta in cielo ha detto alla famiglia rivolgetevi alla magistratura vaticana per appunto indagare e scoprire la verità su Emanuele Orlandi. Quindi anche contraddittoria come dire sta in cielo perché hai detto che sta in cielo. Sai che sta in cielo. Comunque non è una frase detta da… Oppure è una frase detta tanto per… dopo 40 anni… Eh ma l'ha detto comunque il Papa, quindi non… E poi la disse qualche anno fa, forse proprio dopo l'elezione. Allora noi, io ti ringrazio, domani sono abito a parlare al plurale Fabio, quindi dico e continuerò a dire noi, ti ringrazio di essere stato con noi. Noi vi ricordiamo ovviamente di ascoltare Fabio dalle 13 alle 15 con la storia oscura su Radio Cusano Campus. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi stasera tra poco a spasso nel tempo una puntata speciale dedicata al dramma delle foibe all'esodo Giuliano Dalmata con autorevoli ospiti tra cui il direttore dell'archivio storico di Fiume, il dottor Marino Micic, ma anche tante immagini con l'intervento di Mattarella sul giorno del ricordo. E poi ovviamente vi ricordiamo di vedere Fabio con Crimine e Criminologia dalle 21, domenica puntata speciale con Pietro Orlandi e Laura Sgro, il caso Orlandi, ma anche tanto altro come sempre, fino a mezzanotte in diretta. Grazie mille Fabio, allora io ti chiedo come ogni martedì… Grazie a te, complimenti, vai benissimo, anche senza Francesco Chiardi. Ma io non posso procedere senza la mia fedele scala. Mi odierà se mi sta guardando, però se la sta cavando alla grande. Allora Fabio, io ti chiedo di annunciarla, vai, annuncia lei. Annunciamo perché in arrivo, immagino ci sarà ancora, o ne ha parlato ieri, parlate ancora di Sanremo. No, ieri abbiamo avuto lo speciale lezioni, quindi oggi è la prima volta che andiamo a fare un assunto totale di Sanremo. È vero, quindi Sanremo è il grande fratello, immagino pure, no? Quindi tra poco non perdete il ciclone Paolo Aspri, qui a pomeriggio con noi su Cusano Italia TV. Torniamo tra poco. Io vado, vi lascio a Francesca Romana Magri. Buonasera.